Mi trovo nel Borneo Malese e in particolare nello stato di Sarawak e in una delle sue più peculiari formazioni forestali, la foresta allagata o foresta torbiera. Le torbiere sono degli ecosistemi particolari in cui la biomassa, quindi organismi vegetali e animali morti, tendono ad accumularsi sotto il pelo dell'acqua e ad essere sottoposti a un lento processo di degradazione e di carbonificazione che la trasforma nella cosiddetta torba. Dal punto di vista della diversità biologica non è un ecosistema paragonabile a quello delle foreste di pianura, di basso piano, ma è un tipo di foresta che svolge un ruolo cruciale e fondamentale per la salute e la sopravvivenza del nostro pianeta e di noi stessi.